Sono Raniero Maggini, responsabile dell'ambiente territorio di cittadinanza attiva, ci occupiamo in particolar modo di relazioni con le piccole comunità a borghi, piccoli comuni montani, nel tentativo naturalmente di preservare il patrimonio culturale e ambientale di quei territori, ma da oltre 30 anni mi occupo di natura di sensibilizzazione alla sostenibilità e in particolar modo a roma in attenzione. Grazie.